I consiglieri di minoranza della Lega del Comune di Rosarno hanno chiesto espressamente alla Regione Calabria, assessorato all'ambiente, l'accesso agli atti della pratica relativa, dicono, alla strana vicenda della collocazione, progettazione e costruzione dell'impianto di biodigestore presso la località Zimberio di Rosarno. L'istante è stata avanzata per comprendere cosa sia effettivamente successo in considerazione delle diverse e contrapposte versioni del sindaco di Rosarno, Giuseppe Ida, degli altri sindaci dei paesi limitrofi della Piana, Michele Tripodi, Aldo Alessio e dell'assessore all'ambiente della Regione, Antonella Rizzo. Quest'ultima si legge nel comunicato a firma dei consiglieri di minoranza in un'intervista dichiarato che l'offerta del sito di Zimberio è stata effettuata dai sindaci della Piana, con in testa Giuseppe Ida. Quest'ultimo nega tale circostanza, affermando che si è trattato solamente di una generica disponibilità in una fase preliminare. Sta di fatto, a quanto si legge nei giornali, che il sito da Siderno è stato spostato a Rosarno e quindi non è certamente un solo accenno per come vorrebbero far credere i sindaci Ida e Falcomatà. Trattandosi quindi di una questione molto seria che potrebbe incidere sulla pubblica salute, i consiglieri della Lega hanno ritenuto con grande senso di responsabilità chiedere di poter verificare gli atti e assumere le conseguenze e determinazioni. Su richiesta inoltre degli stessi è stato fissato un consiglio comunale straordinario per domani, per discutere sia di tale impianto che dell'annosa questione dei rifiuti che hanno invaso alla cittadina rosarnese.